Si fermano i lavori della filovia sulla strada del parco. A dare lo stop è stato il sindaco di Pescara Luigi Alboremascia che ha disposto l'attuazione dell'ordine del giorno proposto dal consigliere comunale Maurizio Acerbo e sostenuto dal WWF Abruzzo e dall'associazione Carrozzine Determinate. Una scelta ritenuta saggia, quella di Alboremascia, che bloccherà quindi lavori fino alla sentenza del Tar del 19 giugno. Qui c'è la GTM e il Russo che vogliono fare andare avanti i lavori a tutti i costi ma noi diciamo se il 19 si deve pronunciare il Tar fermiamoci, non spegniamo ulteriori soldi, capiamo chi ha ragione e chi ha torto e poi ognuno procederà. Tra l'altro potrebbe vincere le elezioni qualche di un altro che contro questo progetto è per rimodularlo. Quindi io credo che il sindaco abbia fatto bene, probabilmente si poteva anche fare prima ma è una scelta fatta nell'interesse della città. Non si capisce anche perché il presidente russo voglia tendere i cavi che fa parte della, diciamo che è una parte finale di quest'opera mentre ci sono tantissimi lavori ancora da fare. A Montesilvano c'è un fondo stradale inadeguato per ammissione della stessa ditta che va rifatto completamente e sia a Pescara che a Montesilvano ci sono le barriere architettoniche che sono tra l'altro una prescrizione dello stesso comitato via, quindi non si capisce tra l'altro appunto perché questa accelerazione sulla tesatura dei cavi. Quindi noi consigliamo al presidente russo di mettere a norma prima il tracciato e poi eventualmente vedere di fare il resto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.